pronti stasera stasera si 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 ci sono alle 9 si dai ci sono ma che ritardo ma che ritardo tu non ti preoccupi a 5 alle 9 sono lì vai tra vai tra ciao 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 bravo purificante o anti stress? anti stress vero? si si e no oh no scherzavo il 20 non ci sono perchè sono a una laurea upsiii pronto no 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 è che non mi parte la macchina no 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 tu vai tra che 10 minuti sono lì sì Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti Siamo in uno del vostro occhio dove avete lasciato quella puntina da fuori 5, 6, 7 Facendo proprio questo movimento, quindi andandovi a riportare il colore proprio sull'occhio Raga, ma voi vi mettete i jeans o pantaloni tipo un po' più carini? Ah ma ti metti il vestito? Ma che vestito ti metti? Ma quello nero? No vabbè ma così tu sei figa, io cosa mi metto? Ma no raga ho i peli No raga se mi metto a depillarmi adesso non arrivo più, che già sono in ritardo Cosa mi metto? Cosa mi metto? Non ho niente da mettermi Tacchi no, i tacchi no, i tacchi no Ciao, salve, ciao a tutti Scusate, c'era un traffico assurdo Ciao Ciao Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando se è così lasciate un bellissimo pollicello in su E mi raccomando iscrivetevi per avere nuovissimi video ogni settimana Scrivetemi nei commenti se anche voi siete persone ritardatari O voi se siete persone puntuali Perché voglio sapere veramente la percentuale delle persone che sono puntuali Perché non esistono persone puntuali, vero? Sono l'unica, ok? Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale Iscrivetevi anche sul canale di Unicorn Island in collaborazione con Cesta E niente, ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao